Buongiorno, siamo qui nel comune di Cogno Monzese, abbiamo il sindaco Angelo Rocchi e l'assessore Dania Perigo, che è assessore alla scuola edilizia scolastica, sport, edilizia sportiva, cultura, educazione e pari opportunità. In occasione della mostra di Dante, che ci sarà a Cogno Monzese, assessore, come nasce questa mostra? L'idea nasce perché nel 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante, quindi anche Cogno Monzese vuole celebrare questo poeta famoso in tutto il mondo. Quindi a seguito di una serie di ricerche abbiamo trovato questa mostra molto interessante incentrata sull'inferno di Dante, una mostra che arriva dalla Toscana, creata da una società naturaliter specializzata in installazioni museali. Mostra molto interessante che sono andata personalmente a vedere, è allestita in provincia di Pavia, alla Certosa di Calci, e abbiamo deciso di portarla qua. Verrà inaugurata il 26 di febbraio, rimarrà allestita per tre mesi e mezzo, quindi fino al 12 di giugno, ed è incentrata sull'inferno. Sarà un percorso dove il visitatore potrà assaporare, immergersi nelle atmosfere infernali di Dante, che verrà allestito proprio in Villa Casati, nella Sala Pertin e nella Sala Crippa. Ci saranno alcune installazioni che descriveranno dei gironi importanti di Dante, dell'inferno dantesco, come ad esempio Paolo e Francesca, o il conte Ugolino. Ci saranno delle videoproiezioni, con Dante che racconta, che parla, che parla con i visitatori. Insomma, sarà una mostra molto emozionante, devo dire. Bene, bene. Ma perché è proprio Dante e di cosa si tratta, poi, nello specifico? Dante è proprio perché è un autore, è un personaggio famosissimo italiano, famoso in tutto il mondo. Ricorrono i 700 anni della sua morte e quindi Cologno voleva esserci. Come accennavo prima, appunto, sarà incentrata proprio sull'inferno ed è una mostra che abbiamo scelto proprio perché tende a emozionare lo spettatore e il visitatore. Si poteva pensare a dei quadri o dei libri, ma abbiamo preferito scegliere una mostra che colpisce le persone che vanno a vederla, in maniera che rimangono affascinate e magari incuriosite nel conoscere di più Dante e la Divina Commedia. Grazie Assessore. Sindaco Angio Rocchi, che è il sindaco di Cogno Monzese. Come mai a Cologno? Cologno, grazie appunto al lavoro dell'Assessore e degli uffici, abbiamo un'offerta culturale di vario tipo. È molto intensa sotto ogni punto di vista e anche con delle sfumature diverse. Si esprimono mostre e iniziative di artisti locali, ma ogni anno vorremmo fare qualcosa di importante, come abbiamo fatto l'altro anno sulla mostra di Leonardo da Vinci, che ha avuto un successone, più di 12.000 frequentazioni, ha avuto un eco a livello sovracomunale, a livello anche regionale e nazionale. Noi vorremmo dare un'offerta alla città di una mostra importante, di una manifestazione come questa, per far da stimolo, innanzitutto alle scuole, agli studenti, alle famiglie, dove una mostra come questa dà un imprimato anche culturale e mediatico. Possono esserci delle ricerche, possono esserci anche dei confronti, dei dibattiti. Noi apriamo questa pista qua. Il perché qui da noi, perché appunto Cologno-Monzese deve emergere come una città importante di 50.000 abitanti, deve far sentire la propria voce, deve fare in modo tale che vengano qui da fuori città altre persone, altre famiglie, altre scolaresche. Quindi per darsi una dimensione sovracomunale. Questo per me è importante perché diventa un fiore all'occhiello della mia amministrazione. Una bellissima mostra. Di chi è stata questa idea e dove nasce? Nasce dall'amministrazione, da un confronto tra il sindaco e gli assessori e anche appunto come ho detto prima sull'onda lunga di quella che abbiamo fatto di Leonardo da Vinci che vi posso garantire che era un successone. E questa lo sarà perché emozionalmente forse se vediamo anche le immagini, le installazioni, ci saranno delle simulazioni e dei video anche tridimensionali, anche con degli attori, e comunque dei personaggi che spiegheranno non solo virtualmente ma anche concretamente ciò che è l'arte e la cultura di un grande poeta come Dante. Il perché a Cologno è perché Cologno appunto deve uscire dal guscio. Cologno è Cologno. Cioè non stiamo parlando di un piccolo comune, stiamo parlando di un comune che vuole fare cultura ad alto livello. Vogliamo dire anche le date della mostra? Allora, l'inaugurazione della mostra sarà sabato 26 febbraio, le 22, alle 15.30. E due erano fino? Fino al 12 giugno, quindi sono tre mesi e mezzo di mostra. Durante la settimana, dal martedì al venerdì, le scuole potranno venire a visitarla, sia al mattino che al pomeriggio, su prenotazione ovviamente. E i giovedì pomeriggio, venerdì pomeriggio e sabato e domenica invece è aperta la cittadinanza. Poi anche l'assessorato propone anche delle tariffe agevolate per le famiglie. Troveremo una soluzione in cui troveremo anche modo di far frequentare alle persone che ne hanno particolari esigenze questa mostra qua. Perché un minimo di costo ci sarà, se puoi spiegare. Sì, è una mostra molto impegnativa anche da un punto di vista economico, per cui il Comune farà la sua parte, quindi parte delle risorse sono comunali. Abbiamo ottenuto delle sponsorizzazioni, infatti sul manifesto ci sono Cap Holding e una multinazionale francese, la SCC Italia, che gestisce centri commerciali. E infine sarà chiesto un piccolo biglietto, si tratta di 5 euro, l'intero è 2,50 euro, è ridotto soprattutto per gli under 18, quindi una cifra pressoché simbolica. Però è una strategia per poter fare eventi culturali di livello, portarli anche a Colonia Monzese. Si farete tra cittadini, comuni e anche società private che ci aiutano in questo. Non sono soldi buttati via, quelli che si spendono per la cultura di questi livelli, quindi non sono soldi che gravitano sulle tasse dei cittadini, ci sono state sponsorizzazioni importanti e i biglietti che entreranno servono per, diciamo, rimpinguare quelli che sono i costi. Quindi non c'è nessun problema dal punto di vista economico, è una scelta giusta perché i soldi spesi per la cultura e per queste cose sono soldi spesi bene per il futuro, per i nostri ragazzi. Settimana scorsa abbiamo premiato dei ragazzi fantastici perché la politica che ha fatto l'assessore e l'amministrazione sul rilancio delle scuole a Colonia sta dando i suoi bei risultati proprio nelle scuole, dove le scuole migliori, dove si fa cultura ad alto livello, poi sono i ragazzi che ne godono i benefici e le famiglie. Certo, infatti, per cui grazie assessore, grazie sindaco e buona mostra a tutti. Grazie a tutti.